15 tavoli tematici, circa 200 partecipanti che hanno evidenziato le principali stanze per il proprio territorio. Sanità, formazione, sviluppo locale e trasporti. Sono i dati che i sindaci degli 11 comuni dell'area interna Fontana Buona, Regione e Anci Liguria hanno presentato nella sala consigliare del comune di Cicagna. Un lavoro di ascolto e indagine che andrà a strutturare la strategia d'area della Fontana Buona per accedere a investire sul territorio attraverso i fondi disponibili, tra cui il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il complemento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Liguria. A livello nazionale le risorse disponibili sono 4 milioni di euro da integrare con le altre dotazioni regionali. Per quanto riguarda la mia parte di competenza sono circa 11 milioni, oltre naturalmente tutti i fondi che già destiniamo come assessorato all'agricoltura per lo sviluppo dell'entroterra, sia parte privata, aziende private, sia la parte che riguarda gli investimenti pubblici dei comuni. Partiamo con una dotazione iniziale di circa 22-24 milioni di fondi regionali proprio per queste progettualità e quindi mi auguro che anche i comuni della Fontana Buona possano cogliere queste iniziative. Le realtà locali hanno evidenziato i bisogni. A fronte di un territorio come quello della Fontana Buona, caratterizzato da una rete di piccoli comuni e con un'età media della popolazione piuttosto alta, l'aumento e il miglioramento dei servizi alla persona e delle infrastrutture può rappresentare il volano per un rilancio sociale e economico. In primis ovviamente la sanità territoriale, quindi telemedicina, potenziare l'ospedalietto di Cicania, poi abbiamo sviluppato i temi sul trasporto scolastico per quindi migliorare la fruizione dei nostri pezzi scolastici che va anche nell'ordine del dimensionamento scolastico, quindi mantenere anche la direzione dell'istituto comprensivo, poi mettere a sistema tutte le attività culturali che abbiamo sul territorio, pensando anche al nostro teatro. Sanità, scuola e mobilità e trasporti. Perché sono importanti questi tre pilastri? Perché se voglio far sì che una famiglia, un'impresa, un individuo, un cittadino si fermi nell'area interna e non se ne vada via, devo dargli quei servizi essenziali. La maturazione del progetto Area Interna Fontana Buona è quindi in atto, mentre una delle opere strategiche deputate a sostenere il territorio fontanino sta entrando nella fase cruciale del suo iter di realizzazione. Grazie. 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 Grazie.